Benvenuti a questa seconda parte della mattinata. Mi piacerebbe accompagnarvi in questa mattinata riuscendo a svolgere un ruolo, passatemi la metafora, di interfaccia tra questi due mondi tra il mondo delle imprese, il mondo dell'informatica, del digitale e il terzo settore. Hanno molti punti in comune perché adottano spesso delle logiche simili, logiche di rete, cercano di mettere insieme soggetti diversi e lo fanno in un'ottica collaborativa. Lo fa il mondo dell'informatica, pensiamo alle frontiere del travel computing, ma lo fa in terzo settore. Per sempre cerca di mettere assieme soggetti diversi cercando di coinvolgere le persone con una forte partecipazione dal basso perché è lì che nasce poi il terzo settore. Passo subito a presentarvi gli ospiti, i nostri pilatori. Abbiamo anche a me l'assessore Marco Zanelli, l'assessore condelega alla sicurezza e coesione sociale del Comune di Milano. Poi abbiamo Massimo Parisi che è il direttore del carcere di Bollate. Don Gino Rigoldi, presidente della Comunità Nuova. Lino Lacanina, presidente del CSB, centro ossa del volontariato di Milano. Marco Lucchini, direttore generale della fondazione Banco Alimentare Onlus. Il professor Giorgio Torrentini che dirige il Master in Management delle aziende cooperative e imprese sociali all'Università Bocconi. Il dottor Federico Barini, direttore di Confindustria digitale, tutto il versante più del mondo delle imprese. Infine sono per ordine la professoressa Fiorilla Di Cinglio che insegna al Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell'Università Statale di Milano. Comincerei dal catalizzatore, il versante pubblico. Abbiamo qui con noi l'assessore Granelli e vorrei chiedere a lui come può il Comune, diciamo in generale soggetto pubblico, in particolare in questo caso il Comune di Milano, farsi promotore di iniziative e di dialogo tra questi due mondi. L'assessorato sta investendo molte energie, sappiamo, nella casa del volontariato. Come vedete il rapporto con l'informatica, tutto il mondo digitale e più in generale tutto il versante dell'innovazione. Grazie. Appunto, per farmi la presentazione, il Comune è un'impresa veramente propria, almeno negli aspetti definitori, però penso che su questo tema possa avere un ruolo importante stando più attente ad alcuni ischi. Il ruolo importante penso che possa esistere è quello di riconoscere che uno degli obiettivi che hanno le istituzioni e anche gli enti locali, quindi anche i comuni, dentro che è scritto nella nostra Costituzione, quello scritto nell'articolo 118 che è stato anche recentemente cambiato, dove è stato inserito il principio di sussiderità e si dice che è appunto un dovere delle istituzioni, non una possibilità o così una vietosità da vacche grasse, ma un dovere sostenere i cittadini che appunto autonomamente si organizzano per servire l'interesse sociale. E questa è appunto l'indicazione che è scritta ed è indicata come un dovere delle istituzioni. In questo tipo di ottica, per collegarsi appunto a questa iniziativa, il ruolo che penso deve avere un Comune, un Comune appunto come quello di Milano, in particolare quello che stiamo cercando di fare nel mio assessorato, è quello di dire in questo ambito riuscire a valorizzare la connessione tra la tecnologia, le varie forme di tecnologia nell'ambito dell'informatizzazione e i soggetti di tal settore, che già possono e hanno contatti virtuosi e importanti per fare che diverse persone che sono qui lo testimoniano in questi anni, però io penso che questo non possa essere lasciato al caso o alle situazioni di maggior imposità nell'ambito del trazzettore o delle imprese che sono particolarmente attente, ma dobbiamo fare in modo che questo incrocio, questo passaggio e la possibilità che il trazzettore nelle proprie dimensioni specifiche, adesso insieme, possa avvalersi al massimo della tecnologia informatica, sia il sensuale o il software e comunque di tutte le opportunità che hanno e anche come modalità di pensiero e di organizzazione avvenga al massimo. Per questo vuol dire appunto, secondo me, interpretare quell'indicazione che io faccio risalire alla Costituzione, cioè dire, dobbiamo, se il compito dell'istituzione è quello di aiutare appunto queste organizzazioni a compiere meglio la loro missione, quindi non dire noi la missione che devono svolgere, ma sostenere queste organizzazioni perché possono meglio svolgere questo, io penso che questo sia un terreno fondamentale, perché oggi non avere accesso pienamente a questo tipo di tecnologie vuol dire comunque avere maggiore complessità e mentre invece poter utilizzarla a pieno vuol dire investire al massimo, poter svolgere al massimo la loro missione, investire le energie, essere più efficienti e quindi diffondere anche maggiormente il proprio essere, la propria missione, le proprie attività, riuscire attraverso il loro fare un sistema che possa permettere a un maggior numero di organizzazioni nel terzo settore, soprattutto quelle che sono più ramificate in città, quelle anche più piccole che da sole non sarebbero capaci di accedere, di poter avere in maniera semplificata, meno costosa possibile, quindi avere più accesso a dato, a sotto e a formazione che permette di utilizzare a pieno questa tecnologia. questo è un po' l'obiettivo, è il lavoro che stiamo cercando di costruire, dico l'ultima cosa, certamente questo noi dovremmo fare insieme con le associazioni, cioè non vogliamo sostituirci e quindi i secondi livelli, è un po' tecnica la parola, non le singole organizzazioni ma a colore che o per finalità istituzionale come appunto il CSV o il FOM o anche le aggregazioni di associazioni, le reti, noi sono i principali partner non solo perché devono ricevere questa cosa ma che ci aiutino ad essere al meglio al servizio e quindi non creare un passaggio in più ma essere quello strumento per dare volano a questo tipo di iniziative. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo e quindi ci interessa molto e ringraziamo chi ha organizzato questa giornata perché permette di poter essere più efficaci, di poter avviare nei prossimi mesi questo lavoro insieme. Grazie.